Qui ci sono un terzo posto da premiare, quello di Lanza, eccolo qui, Lanza, Lanza Leone con la Honda Civic, eccolo qui, terzi di categoria, diciamo bene, della N3, un terzo posto che è arrivato perché guardavate il trofeo? Sì, oggi siamo stati un po' in apprensione, però è andata bene, bella gara, ci siamo divertiti e siamo riusciti a portare la casa a un bel terzo posto. La Coppa è lì, è l'ultimo sforzo ragazzi, dovete scendere, caro Marco e Davide, eccolo lì vi aspetto alla Coppa, il chiave trofeo, l'obiettivo centrato, l'avete vinto, ecco questo, siete già certi? Sì, ragazzi, ragazzi, dunque, del gruppo Dacta Sport, allora, vi salutiamo velocemente Sì, ragazzi, ragazzi, ragazzi